La prima battaglia della Marna, che è l'argomento di questo nostro incontro, ci permette di affrontare tutta una serie di temi che in qualche modo ci lasciano modellizzare la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha seguito tutta una serie di motivi conduttori che proprio nella battaglia della Marna hanno trovato la loro origine. La battaglia della Marna tra l'altro risponde a dei requisiti che la collegano a molte altre battaglie della prima guerra mondiale. Quindi il prologo inevitabile alla battaglia vera e propria, che in sé è un evento militare abbastanza semplice da spiegare, è un'incisione sulle linee di rifornimento, cosa che nella storia dell'arte della guerra risale addirittura al Medioevo. Nel caso della battaglia della Marna, come vedremo, ci sono tutta una serie però di corollari, tutta una serie di particolarità che accompagnano questo dato, diciamo, essenziale, cioè di una direttrice d'attacco che viene incisa lateralmente e che la trasformano in una metafora delle battaglie della prima guerra mondiale. Il primo aspetto che vi vorrei mostrare è questo, quello che io vado ripetendo spesso e volentieri, cioè che tutte le battaglie, tutte le grandi battaglie della prima guerra mondiale seguono da un punto di vista meccanico un andamento simile e io faccio sempre il paragone di un'onda che si infrange sulla battigia o sul bagnasciuga come erroneamente qualche volta si dice. L'onda arriva a un'energia cinetica molto forte, è molto veloce, la profondità dell'acqua è notevole, va calando progressivamente insieme alla velocità e all'energia cinetica mano a mano che l'onda si arrampica sulla battigia fino a raggiungere un punto di massima avanzata e poi inevitabilmente a ritrarsi per riprendere dopo l'arrivo di una seconda ondata e così via in un ciclo perenne. Le battaglie della prima guerra mondiale assomigliano a questo meccanismo, quasi tutte nascono con un grande accumulo di energie e partono molto velocemente con una forte energia cinetica, poi un po' alla volta la resistenza aumenta ma contemporaneamente si esaurisce la forza dell'attacco. Questo porta l'offensiva a raggiungere un suo massimo nel caso della battaglia della Marna appunto il fiume Marna e poi a ritrarsi inevitabilmente sotto la spinta della controffensiva. È vero che nel caso della battaglia della Marna la controffensiva non è stata come dire uguale e contraria rispetto all'offensiva ma è stata perpendicolare all'offensiva, ma il meccanismo non cambia. La ragione per cui a un certo punto il gruppo d'armate tedesco è stato costretto alla fine della battaglia della Marna a retrocedere fino al fiume Esn è la stessa, c'è stato un esaurimento, così come c'era stato un esaurimento progressivo delle energie francesi all'inizio della battaglia. Il secondo elemento che in qualche modo possiamo definire modellizzabile della battaglia della Marna consiste nell'utilizzo di armi nuove. Nella battaglia della Marna da una parte e dall'altra vengono utilizzate delle armi fornite dalla moderna tecnologia militare che si rivelano in qualche maniera decisive rispetto all'andamento della battaglia. L'inizio della battaglia, il suo prodromo che come vedremo avviene in territorio belga perché la battaglia della Marna è solo il punto d'arrivo di una grande offensiva nota universalmente come il piano Moltke-Schliffen, vedremo poi da dove prende questo nome, parte con l'invasione del Belgio e con la necessità tattica di affrontare i grandi forti che circondavano la città di Liegi. Per affrontare questi forti, come si vede nell'immagine, i tedeschi avevano approntato delle batterie super pesanti di questi mortai obici, quelli che passarono alla storia come la grande Berta, da 420 mm o meglio da 42 cm secondo la definizione del mondo germanico. Questi enormi obici non soltanto erano imprevisti ma addirittura erano stati negati, la loro esistenza si era detto era impossibile in numerosi saggi, numerosi articoli che erano stati scritti da esperti d'artiglieria prima dell'inizio della guerra, cioè si era detto che dei supercalibri campali che superassero i 305 mm erano molto difficili se non impossibili da realizzare, viceversa come potete vedere da questa immagine il 420 tedesco non solo esiste ma è stato messo in batteria e ha contribuito come vedremo alla distruzione completa dei forti intorno a Liegi fino alla loro resa e quindi fino all'apertura del passaggio per la grande campagna offensiva contro la Francia che appunto passava attraverso il Belgio. Parimenti, uguale e contrario all'effetto, la battaglia della Marna dimostra come le grandi fortificazioni statiche, cioè quella rete di fortezze di cui era stata disseminata l'Europa e anche l'Italia, sugli altipiani per esempio non era stata immune a questa malattia costruttiva, questa grande serie di fortezze corazzate si rivela completamente inutile, non c'è una sola di queste fortezze corazzate che in qualche modo rappresenti davvero un baluardo per resistere a un'offensiva, o vengono aggirate o vengono distrutte o come nel caso più famoso del forte di Duomo a Verdun, il forte viene conquistato perché un gruppo di ingegneri tedeschi trova una porticina aperta, si introduce nel forte e lo conquista. Quindi la battaglia della Marna ci mostra non soltanto l'importanza di certe novità, abbiamo parlato del 42 cm ma dovremo parlare dopo e molto di più del 75 Deport francese che sarà l'arma vincente dei francesi nella battaglia della Marna, quindi non dimostrò soltanto l'utilità di novità tecnologiche da un punto di vista militare ma anche l'inutilità di certe fortificazioni campali fisse che fin dal tempo del Vauban erano considerate un deterrente formidabile che invece si rivelano assolutamente inti. Un altro aspetto caratteristico della prima battaglia della Marna e in generale dell'offensiva Mölke-Schlieffen è quella delle porte girevoli. Lo si vede qua in questa immagine, lo vedremo meglio poi, a ogni offensiva corrispondeva da un lato o dall'altro dell'onda d'urto una sorta di offensiva uguale e contraria da parte avversaria. In questo caso vediamo in rosso il teorico percorso delle armate germaniche durante l'offensiva Mölke-Schlieffen e in blu invece, come vedete a formare una sorta di movimento ciclonico, le armate francesi che puntavano viceversa a un'offensiva diretta verso l'Alsazio e la Lorena che come vedremo rappresentano una specie di miraggio ammaliante per i francesi. Io l'ho paragonato al miraggio di Trento e Trieste per gli italiani. Come nel caso di Trento e Trieste per gli italiani, come vedremo, questo miraggio di Messe, di Moulouse, in generale dell'Alsazio e della Lorena, cioè delle terre perdute dopo la battaglia di Sedan, dopo la guerra franco-prussiana del 70, rappresentano un po' uno specchietto per le allodole che costringe i francesi poi, come vedremo, a una rapida retromarcia. Infine, l'offensiva si arena contro un ostacolo naturale, il fiume Marna. Il fiume Marna che è un fiume abbastanza largo, molto placido all'aspetto, ma che peraltro viene superato nel punto cruciale dell'offensiva, ma insomma che rappresenta un ostacolo naturale e io lo sottolineo perché spesso e volentieri vengo interrogato non tanto sulla battaglia della Marna, ma su una battaglia che ci tocca più da vicino, che è la battaglia del Piave, o meglio le tre battaglie del Piave. La ritirata di Caporetto e la battaglia del Piave, se ci fate caso, hanno fondamentalmente un andamento simile a quello delle due battaglie della Marna, cioè una grossa forza d'urto sfruttando sia una tattica militare nuova, sia delle tecnologie militari nuove, sfonda, opera uno sfondamento, crea una contrazione del fronte avversario e poi si arena, per questo meccanismo che abbiamo detto di un'onda di piena che arriva sulla battaglia e poi un po' alla volta rallenta, si ferma e viene indietro, arriva sul Piave, sfiatata e sul Piave, dopo aver superato il Piave, ricordo che a Molino della Sega per esempio le truppe austro-tedesche erano arrivate al di là del Piave, poi vengono respinte e lì c'è una fase di stanca in cui, come dire, tutti prendono il fiato e nel caso delle battaglie del Piave, dopo la seconda battaglia del Piave, cioè quella che viene comunemente chiamata battaglia del solstizio, ci sarà Vittorio Veneto e quindi la controoffensiva italiana, esattamente come nel caso delle due battaglie della Marna ci saranno poi due controoffensive, la prima che respingerà i tedeschi fino a Suasson e a Lesn, la seconda addirittura che risolverà la guerra dopo il Kaiserschlacht all'interno del quale si colloca la seconda battaglia della Marna. Quindi delle analogie interessanti che non possono non costringerci a riflettere sul fatto di come tutto sommato esista una specie di idea platonica di offensiva nella prima guerra mondiale, cioè che le offensive rispondano poi, con tutte le variazioni del caso, a una precisa regola generale che è poi la regola della logistica, cioè allungando le proprie linee di rifornimento e utilizzando sempre gli stessi soldati, il rischio, calcolate che in questi attacchi i soldati camminavano dai 40 ai 60 km al giorno, carichi come dei muri, il risultato è che arrivino queste forze, anche delle truppe estremamente addestrate come erano le truppe della prima e seconda armata tedesca, arrivino in fondo spompate e poi inevitabilmente in qualche modo subiscano la repressione avversaria. Dicevo della logistica, la logistica è alla base praticamente di tutte le battaglie della prima guerra mondiale salvo alcuni casi particolari ed è alla base anche della battaglia della Marna. Un mio illustre e nobile collega, cioè Ustron, grande storico militare britannico, sostenitore della prevalenza dell'artiglieria nelle battaglie della prima guerra mondiale, mi prendeva in giro dicendo che io sono fin troppo logistico, cioè tendo ad attribuire alla logistica un'importanza addirittura superiore a quella che riveste normalmente. Non perché io non creda, come posso dire, nell'elan, nello sforzo, nell'attacco, nel buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma di fatto tutte le grandi battaglie della prima guerra mondiale trovano la loro risposta, la loro soluzione in una questione di tipo logistico. Abbiamo parlato in un altro incontro della battaglia di Tannenberg. Per la battaglia di Tannenberg, proprio per un problema logistico, cioè un problema di rifornimento di truppe, vengono dislocati due corpi d'armata che si trovavano all'interno dell'ala nord dell'attacco tedesco verso Parigi, verso la Francia, vengono dislocate sul fronte orientale. Questo indebolisce ulteriormente, come vedremo, quest'ala destra, cioè l'ala più settentrionale dell'attacco, e farà sì poi alla fine che se ne senta la mancanza, quindi che manchino le riserve. Un altro aspetto della logistica. Tu allunghi le tue linee di rifornimento, hai la necessità di osservare un territorio che non conosci, mentre l'avversario lo conosce bene. Ecco dunque, come vedremo nella battaglia della Marna, l'utilizzo esplorativo dei due corpi di cavalleria, che verranno all'inizio utilizzati come esploratori. Logisticamente, in un territorio ostile e non conosciuto, questo è necessario. Prima dell'utilizzo della aviazione, naturalmente, si usava la cavalleria. Pensiamo alla guerra civile americana e alla cavalleria di Stuart. Questi corpi poi verranno utilizzati, buttati nel calderone per cercare di tamponare le falle, ma all'inizio almeno si muovono così. Tutto è legato all'apparato logistico e nella battaglia della Marna questo, per la prima volta, si rivela in tutta la sua importanza. La domanda che segue è, ma perché gli italiani non hanno fatto tesoro di questa lezione? Bella domanda. Perché durante la guerra e durante le guerre è molto raro che si faccia tesoro dei propri errori. Capita veramente molto di raro. Comunque sia, parliamo di questo famoso piano Schlieffen che poi diventa piano Mölke-Schlieffen. Cominciamo col dire che il signore che vedete nella fotografia, Alfred Schlieffen, è stato capo di, Feldmaresciallo tedesco, è stato capo di Stato Maggiore dal 91 al 5. Gli succederà proprio Mölke il giovane, che è quello che in qualche modo metterà il suo marchio di fabbrica sul piano che era stato elaborato da Schlieffen. Il piano che era stato elaborato da Schlieffen era questo che vedete. Il piano prevedeva un'offensiva la più rapida possibile che violando la neutralità dei Paesi Bassi e del Belgio, qui sta una delle differenze rispetto al piano Mölke che invece si limita a violare la neutralità del Belgio e quindi le truppe tedesche non potranno usufruire dell'ottimo servizio ferroviario dei Paesi Bassi. Questo probabilmente per evitare il discredito internazionale che comunque arriva loro addosso in ogni caso. Se pensiamo alla produzione sia letteraria che giornalistica sull'ovanio, sull'attacco al Belgio, su Davide contro Golia, cioè in realtà gli scrupoli che erano stati presi dal Obercommando tedesco sono degli scrupoli perduti. La Germania ci fa lo stesso, la figuraccia e in più non utilizza logisticamente le ferrovie dei Paesi Bassi per poter, come dire, ampliare questo movimento aggirante, questo movimento aggirante che come vedete si muove da nord-est verso sud-ovest avvolgendo la città di Parigi. Cioè una specie di mezza tenaglia che si dovrebbe chiudere sulla città di Parigi e giungere alle spalle del grosso dell'esercito francese, queste frecce blu che vedete, che è impegnato appunto nell'attacco in direzione Messe, in direzione Lorena e Alsazia. Tanto più questa offensiva avesse potuto essere, scusate, rapida, tanto più avrebbe ottenuto dei risultati eclatanti. C'era insomma l'idea di una sorta di colpo di mano potente e rapido che in qualche modo sconfiggesse rapidamente la Francia e permettesse poi altrettanto rapidamente di spostare i propri soldati sul fronte orientale per affrontare i russi. Questo perché il problemone che dovevano affrontare gli strateghi tedeschi era quello di combattere su due fronti e siccome non avevano energie sufficienti per combattere in maniera vincente sui due fronti avrebbero dovuto per forza adottare questa strategia di un attacco rapido, violento e definitivo nei confronti dei francesi, che erano considerati il nemico peggiore francesi e BEF, British Expeditionary Force, che non ho citato fino adesso perché fino adesso è rimasto come dire ininfluente rispetto al discorso ma come vedremo avrà una sua importanza notevole all'interno della battaglia della Marla. Qua dico, racconto una delle numerose leggende, leggenda vuole che morendo nel 13 Schlieffen abbia ripetuto rinforzate l'ala destra. È una leggenda ma è una leggenda che spiega. L'ala destra vale a dire la parte più settentrionale di questa mezza tenaglia che avrebbe dovuto avvolgere Parigi e le armate della Lorena, era la parte che andava rinforzata di più, che doveva essere più robusta perché era quella che avrebbe dovuto percorrere più strada più velocemente e fare lo sforzo maggiore. Se anche si tratta forse di una leggenda, sapete che molte volte nella storia le frasi celebri non furono mai pronunciate, se anche non è stata pronunciata pure è l'espressione del pensiero di Schlieffen e soprattutto è l'espressione degli studiosi di strategia militare a posteriori, cioè che uno degli errori che hanno determinato il fallimento dell'offensiva del XIV in Francia è stato proprio quello non solo di non irrobustire l'ala destra ma addirittura di indebolirla. Indebolirla come vedremo al punto prima nel piano Moltke-Schlieffen non inglobando Parigi nel movimento aggirante e come vedremo all'interno della battaglia della Marna proprio Parigi con il suo governatore militare Gallieny e con la sesta armata che viene costituita proprio nella zona di Parigi e che avrà un ruolo determinante nella battaglia della Marna, si commette lasciandola fuori dall'aggiramento un errore fondamentale. In più naturalmente c'è l'elemento anche psicologico, provate ad immaginarvi i francesi che vedono Parigi per la seconda volta nel giro di 50 anni conquistata dal nemico tedesco. Inoltre il fatto di accorciare la traiettoria della parte destra, dell'ala destra della manovra girante fa sì che il fianco di quella stessa manovra girante, cioè la nuova ala destra che passa a est di Parigi, sia come dire in qualche modo esposta al rischio di un attacco incisivo perpendicolare, come dicevamo, che in qualche modo ne interrompa i riformimenti e al tempo stesso crei una specie di iato fra la prima e la seconda armata germanica che viaggiano, come vedete da questo schema, parallelamente. Il comandante von Mölcke, Ludwig von Mölcke, quindi il nipote del vincitore di Sedan, era come dire un generale di vecchia scuola, era un generale abbastanza fiducioso, certo meno del suo subordinato von Kluck, ma era anche un generale abbastanza attento e prudente e quindi osservando i piani fatti dal suo predecessore li trova fondamentalmente un po' troppo spregiudicati e quindi li riforma trasformando il piano Schliffen di cui abbiamo detto prima nel nuovo piano, il piano Mölcke-Schliffen che vedete qui raffigurato. Le armate non dovevano attraversare i Paesi Bassi, dovevano chiudere a est di Parigi e una parte delle truppe, più precisamente questa freccia rossa che vedete la più in basso rispetto a tutte le direttrici della manovra, doveva essere inviata in Alsazia per, come dire, in qualche modo rintuzzare i tentativi fatti dal grosso dell'esercito francese di avanzare in quella direzione. Quindi da una parte stava una scelta assolutamente risoluta di attaccare e attaccare e attaccare, velocemente, violentemente, con tutte le energie disponibili e inglobando Parigi. L'altra soluzione, invece, è una soluzione intermedia, una soluzione, diciamo, come dire, più soft, in cui l'attacco doveva avere una curva meno ampia e in questo modo, appunto, la zona di Parigi sarebbe stata lasciata stare e, come vedremo addirittura, poi l'avanzata della prima armata, anziché muovere verso sud-ovest, farà una conversione verso sud e basta. E questo, in qualche modo, favorirà enormemente il contrattacco. Dall'altra parte, la velocità viene interdetta perché, come si era detto, impedisce ai tedeschi di utilizzare le ferrovie olandesi ritardandone la manovra. Questa immagine che vedete di un treno carico di soldati tedeschi che hanno scritto col gesso sui vagoni Nachden Boulevard in Paris e che ricorda un po' gli elmetti austriaci dell'operazione Lavine in Italia con su scritto Nachmeiland, ecco, rappresenta, io credo, in maniera plastica l'aspettativa, la speranza tedesca e il fallimento di questa speranza, perché Parigi viene esclusa dagli obiettivi strategici di questa offensiva. E quindi, se i tedeschi festeggiavano anticipatamente in questo modo il loro passeggiare sui boulevard, provate un po' a immaginarvi cosa avrebbe rappresentato per i francesi perdere Parigi. Perdere Parigi, dopo tutta la retorica del 1870, dopo l'assedio, dopo le novelle di Guy de Maupassant, ecco, avrebbe rappresentato certamente, come dire, un impatto, uno shock psicologico notevolissimo. Tenete presente che durante la battaglia della Marna il governo di Parigi, il governo civile della Francia, si era trasferito a Bordeaux, a Parigi era rimasto Gallieny che era il governatore militare, quindi i francesi già guardavano al peggio e già, come dire, ricordavano, risentivano, erano ancora vivi quelli che avevano visto con i loro occhi l'occupazione prussiana del 1870. Quindi tutto questo si caricava, come dire, di una valenza straordinaria. Non dimentichiamoci mai che è vero che la guerra, lo dico io che sono il logistico, che la guerra è proiettili, cannoni, ferrovie, comunicazione, osservazione, è intelligence, è addestramento, è resistenza, ma la guerra è anche psicologia. Abbiamo visto episodi infiniti in guerra, anche nelle guerre più moderne, in cui lo spirito, la psicologia del soldato e la psicologia anche del civile che sta dietro le spalle del soldato è fondamentale per portare a casa il risultato. Immaginatevi dunque una Francia messa in ginocchio dalla conquista di Parigi, come avrebbe potuto reagire una Francia che decide di difendersi non più sulla linea della Marne o sulla linea della Senna, che era la linea che era stata vista nel caso che non avesse funzionato la controffensiva dell'agosto, scusate del settembre del 1914, ma una Francia che si deve andare a difendere, che so, vicino a Bordeaux, sulla Gironda, ecco, provate a immaginarvi una Francia così. E non è difficile immaginarsela perché nel 1940 succede esattamente questa cosa, cioè che i francesi crollano. Avrebbe potuto succedere anche nel 1914 e in fondo la storia della prima battaglia della Marne è anche la storia di come questo non è successo. Nel momento in cui la manovra girante rallenta, rallenta per vari motivi, principali dei quali l'esaurimento. La prima armata di Von Cluck, che era diciamo quella che guidava questa manovra, è esausta, è veramente completamente sulle ginocchia, permette ai francesi di incidere sul perno della rotazione, cioè sull'asse, Clausewitz forse l'avrebbe chiamato Schwerpunkt, sull'asse intorno a cui le truppe tedesche stavano manovrando e alla fine, come vedremo, succederà quello che è sempre stato il disastro, l'abbiamo visto anche a Tannenberg, quello che è sempre stato il disastro per un esercito, cioè il dividerlo in due, l'apertura di un oiato fra due armate, in questo caso la prima e la seconda armata tedesca, che come vedremo costringerà alla fine i tedeschi a ritirarsi considerevolmente. Noi oggi, questa considerazione è una considerazione che dedico un po' a quelli che fanno delle domande di tipo ucronico sulla guerra, non sappiamo dire se il piano Schliffen rispetto al piano Mölk-Schliffen avrebbe o meno avuto un successo maggiore o avrebbe addirittura potuto portare alla conclusione vittoriosa della guerra, però certamente dico, questa è la mia posizione, dico che le responsabilità di Mölk nel modificarlo sono delle responsabilità indiscutibili, anche se Mölk aveva forse le sue giustificazioni. Le modifiche poi non sono fatte solo da Mölk perché lo stesso von Kluck, come vedremo, a un certo punto se ne strafrega di informare il suo comandante in capo e procede con la sua manovra verso sud, così, in maniera abbastanza autonoma, fino a che non verrà richiamato all'ordine, ma quando verrà richiamato all'ordine saremo ormai all'inizio della controffensiva e la situazione rapidamente degenererà. Parliamo un attimo dei francesi adesso. I francesi avevano un piano, originariamente un piano di attacco, di invasione della Germania, che assomigliava molto al piano Schliffen. Questo piano si è sempre chiamato Plan Dissept, cioè piano 17. La scelta del numero forse in Italia potrebbe essere considerata da un punto di vista apotropaico proprio non felicissima. Comunque questo Plan Dissept prevedeva originariamente, come si può vedere da questa diapositiva, prevedeva un passaggio attraverso il Belgio e un aggiramento delle forze germaniche, quelle che vedete qui in rosso, più o meno uguale e contrario rispetto a quello che era progettato dal piano Schliffen. Naturalmente i francesi, dopo essersi lasciati andare a questo volo pindarico, poi optano per una soluzione molto più ragionevole e ridimensionata, vale a dire il Plan Dissept del 1914, che è questo che vedete in questa diapositiva. Vale a dire un'offensiva di tipo rettilineo, cioè diretta, senza manovre da giramento particolari, il cui obiettivo era quello di sfondare le difese in Alsazia e in Lorena e intanto mettere in cascina il primo grande obiettivo, cioè la riconquista di queste due regioni da sempre praticamente contese fra la Francia e la Germania o addirittura fra ciò che non erano ancora Francia e Germania, penso al Sermon de Strasbourg. Insomma è sempre stato lì che si è risolto il contenzioso fra i due, tanto che mi viene da dire che l'Alsazia e la Lorena rappresentassero agli occhi dei francesi un obiettivo non strategico, non militare, ma ipnotico da un punto di vista politico e da un punto di vista anche, come dire, mitologico, esattamente come è accaduto per Trento e Trieste per l'Italia. In particolar modo per Trieste che nel 1915 era un obiettivo che per l'Italia strategicamente non importava granché, la guerra si sarebbe risolta se mai puntando verso Ljubljana, verso la pianura slovena, questo avrebbe permesso come dire quella manovra che Cadorna aveva in mente, ma le forze italiane si disperdono puntando anche su Trieste che era un obiettivo come dire mitologico, Trento e Trieste addirittura tanti pensavano che fosse un unico posto, per cui io capisco benissimo che l'Alsazia e la Lorena esercitassero nei confronti dei francesi un'attrazione analoga a quella. Come si vede bene qui, queste due offensive alla fine risultarono due offensive complementari, cioè il piano Mölkeschliffen e il plan Dissepte francese insieme formano questo movimento ciclonico che fa parlare agli storici militari appunto di porte girevoli e che è un po' caratteristico poi naturalmente su scala ridotta di tante battaglie che vengono combattute sul fronte occidentale. Ed ecco poi la protagonista del nostro racconto, cioè il fiume Marna, la Marna. Come vedete è un fiume, ricordo un po' l'Adda, è un fiume largo, piuttosto lento, nessuno avrebbe detto che la Marna sarebbe diventata il punto d'arrivo di questa offensiva e sarebbe entrata nella storia francese come le Termopili di Francia, un po' come Passobuole per l'Italia. Se uno avesse passeggiato per Passobuole nel 1910 non gli sarebbe mai venuto in mente di pensare che un luogo a meno come Passobuole potesse diventare le Termopili d'Italia. Allo stesso modo io credo che un pescatore che andava a pescare i suoi persici nella Marna mai e poi mai avrebbe pensato che questo tranquillo fiume potesse diventare nella mitologia della prima guerra mondiale il simbolo stesso della resistenza francese. Se mai nella mente dei francesi le Termopili avrebbero dovuto essere queste. Qua vedete la cittadella di Metz, una delle molte cittadelle costruite alla fine del XVII secolo dal celebre architetto militare Vauban e che, come dire, tempestavano nel 600, tempestavano quel territorio che appunto era sempre conteso fra Francia e Germania e dovevano difendere appunto con questo criterio della costruzione difensiva fissa l'ingresso alla Francia. Poi nella prima guerra mondiale, come vedremo, una cittadella non costruita da Vauban ma più o meno contemporanea, cioè quella di Verdun, diventerà davvero le Termopili di Francia ma per un motivo opposto rispetto a quello che si potrebbe pensare. Cioè Verdun diventa l'epicentro di un enorme attacco tedesco il cui obiettivo è attaccare i francesi dove sono forti e in un punto che non avrebbero potuto cedere proprio perché quello era considerato le Termopili di Francia. E allora ecco che il piano di von Falkenhayn, che allora comanda le truppe che attaccano a Verdun, mentre nel 1914 è ministro della guerra e avrà un ruolo anche nella battaglia della Marna dicevo, von Falkenhayn ha come obiettivo il costringere i francesi a arginare l'offensiva di Verdun perdendo un enorme numero di uomini quello che von Falkenhayn non aveva calcolato è che ne perderà un enorme numero anche l'esercito tedesco e quindi Verdun fra il febbraio e il dicembre del 1916 si trasformerà in un carnaio senza precedenti. Ma per i francesi quelle erano le Termopili, diventeranno invece le Termopili la Marna e come vedremo molti fiumicelli che attraversano quel territorio perché si parla della Marna ma come vedremo i fiumi interessati dalla battaglia sono diversi che prima erano un posto considerato, voglio dire, piuttosto tranquillo, piuttosto sicuro. Siamo al 16 agosto del 14, l'ultimo forte di questa struttura circolare intorno alla città di Liegi che ricorda come struttura appunto molte altre città, piazze forti, fortificate mi viene in mente Pgemisle sul fronte della Galizia, la stessa Verdun cioè una città circondata da un sistema di forti corazzati, l'ultimo forte il 16 agosto del 14 si arrende. In realtà già tre giorni prima è iniziata l'offensiva tedesca ma la resa dei forti di Liegi fa sì che il piano Mölk-Schlieffen possa dispiegarsi diciamo in tutte le sue caratteristiche, in tutta la sua potenza. Più di 700.000 uomini, stiamo parlando dell'inizio della prima guerra mondiale e 700.000 uomini per il 1914 rappresentano una cifra enorme avanzarono in Belgio, in particolar modo tre armate von Kluck, von Bülow e von Hausen che sono anche le tre armate che saranno coinvolte in maniera più diretta nella prima battaglia della Marna. Nella mappa che abbiamo visto prima, le tre armate sono in pratica le tre direttrici, i tre vettori che vengono rappresentati nella cartina. Questo che vedete è von Kluck, mentre questi che vedete sono von Bülow e von Hausen i tre comandanti d'armata. Completava il quadro, quello che vi dicevo essere la parte degli esploratori che era affidata a due corpi di cavalleria, von Marwitz e von Richthofen da non confondere naturalmente con Manfred von Richthofen, suo parente ma che nulla ha a che fare con il generale von Richthofen che è il barone rosso. Il fianco sinistro, cioè la parte interna, il perno della rotazione era protetto dalla quarta e dalla quinta armata affidate anche perché avevano un compito, come dire, meno essenziale a due personaggi più importanti dal punto di vista della corte che dal punto di vista militare, vale a dire il duca Albrecht e addirittura il cron prince, cioè l'erede al trono. Dall'altra parte l'esercito francese era nelle mani di questi due signori dall'aspetto pacioso, che erano due ufficiali, due generali della vecchia scuola che era stata educata a due fondamentali regole la prima era che con l'attacco alla baionetta si vinceva qualunque cosa e la seconda era che bisognava riprendere l'Alsazio e la Lorena questo spiega un pochino anche il plan di Sept di cui parlavamo uno è il generale Joffre, quello a sinistra mentre a destra avete il generale Bertlot che era il suo vice capo di stato maggiore la manovra dell'attacco verso la Lorena e l'Alsazia inizia l'8 agosto con la prima e la seconda armata francesi in realtà le armate erano cinque ma insomma diciamo la punta di lancia era rappresentata dalla prima armata di Dubail e la seconda armata da De Castelnau che mossero direttamente verso oeste in direzione della piazzaforte di Messe la manovra che viene fatta in direzione della Lorena e dell'Alsazia viene sostenuta da cinque armate francesi cinque armate francesi che erano il grosso dell'esercito francese e che ingaggiano con le truppe tedesche che erano molto inferiori per numero la battaglia delle frontiere che dura dal 20 al 24 agosto e che non ha un influsso diretto sulla battaglia della Marna ma che naturalmente è l'elemento che impoverisce le forze francesi che non sono del tutto apprezzate, del tutto preparate a sostenere l'urto delle tre grandi armate tedesche la prima, la seconda e la terza che le investono in direzione est-ovest e nord-sud i tedeschi vincono la battaglia delle frontiere nel senso che respingono gli attacchi francesi e riescono, come dire, in qualche modo a temporeggiare mentre il piano Molke-Schliffen entra in piena funzione ma in Germania e anche in parte nel comando germanico già dopo la prima vittoria nella battaglia delle frontiere l'effetto Sedan che come abbiamo visto funzionava per certi versi sui francesi funziona anche sui tedeschi cioè i tedeschi prendono da questa vittoria nella battaglia delle frontiere una sicurezza, una certezza anzi della vittoria parlano già scopertamente di grande vittoria che come vedremo sarà un elemento negativo nella battaglia della Marna a fine agosto la prima armata che stava puntando direttamente su Parigi piega verso sud ed ecco che, come dire, offre il fianco a quei 150.000 uomini che Gallieny aveva radunato nella piazzaforte parigina contemporaneamente dalla prima armata vengono tolti due corpi che vengono mandati a tamponare la sconfitta di Gumbinnen che è avvenuta sul fronte orientale e quindi l'Atenaglia, che non è una vera Tenaglia naturalmente è una sola ganascia dell'Atenaglia comincia a scricchiolare Von Mölke, che si rende conto che forse Von Kluck la sta prendendo un po' troppo allegra dice di rallentare anche perché un'altra delle regole non scritte anzi scritte ma veramente ormai non le scrive più nessuno di una grande battaglia di manovra è che i vari reparti impegnati nella battaglia devono cercare il più possibile di muoversi in maniera coordinata e di mantenere una linea di combattimento comune invece Von Kluck avanza fregandosene un po' di quello che succede alla sua sinistra e un po' fregandosene anche di quello che succede alla sua destra cioè quel famigerato fianco destro che sarebbe rimasto scoperto nei confronti, lo vedete qui nei confronti della piazzaforte di Parigi questa linea più chiara che vedete è l'aggiramento che avrebbe dovuto fare il piano Schlieffen questa linea nera che vedete quella più a destra è il movimento invece verso la Marne quindi ormai decisamente verso sud fatto dalla prima armata di Von Kluck una cosa va detta sia i francesi sconfitti nella battaglia delle frontiere sia gli inglesi sconfitti nella battaglia di Mons si ritirano ma si ritirano molto ordinatamente i tedeschi avevano fatto affidamento su una ritirata scomposta dei francesi mentre invece i francesi si ritirano sia pure con perdite notevoli poi alla fine vedremo che non sono poi così grandi le perdite rispetto a qualunque grande battaglia del 1918 ma si ritirano piuttosto ordinatamente e così anche gli inglesi in questo modo quando l'offensiva tedesca raggiungerà il suo apice e perderà di energia cinetica e di capacità di penetrazione le truppe che si trovano lì di fronte saranno truppe già belle pronte per una controoffensiva cioè saranno delle truppe già riorganizzate quindi lo sperato disordine nell'esercito francese dovuto alla ritirata dopo lo sfondamento delle tre armate che erano la punta di tridente di questa offensiva non avviene e questo in qualche modo scompagina i piani tedeschi ecco qua arrivate al punto in cui l'offensiva è arrivata al limite in questa immagine che vedete tratta da una rivista francese viene raffigurato il periodo dal 5 al 9 settembre vale a dire il momento topico in cui le forze tedesche dopo aver superato la Marne devono rallentare e si fermano e come potete vedere da ovest e da sud le forze francesi possono contrattaccare l'idea è che a un certo punto esauritasi la spinta dell'ala più di destra delle sue armate vale a dire la prima e la seconda armata von Mölke facesse un attacco in direzione delle argonne e di Verdun quindi quasi tornando indietro Verdun si trova a est rispetto a questo schieramento in direzione di Verdun la quarta e la quinta armata che fino a quel momento avevano dovuto svolgere un compito di protezione del perno e quindi come dire non un compito principale ma un compito sussidiario rispetto alla grande manovra girante adesso avessero il compito di puntare direttamente verso le argonne nome che a noi italiani è particolarmente caro per le battaglie avvenute più tardi i cosiddetti Garibaldini delle argonne e dall'altra parte in direzione di Verdun è come se la quarta e la quinta armata tedesca in qualche modo ci anticipassero quelle che sarebbero state le mosse dell'obercommando tedesco nei tempi a venire fra il 15 e il 16 cioè uno spostamento di baricentro della della grande battaglia i francesi intanto che si erano come abbiamo detto ordinatamente ritirati lasciano Parigi nelle mani di un governatore militare il generale Gallieny che vedete in questa fotografia il generale Gallieny aveva radunato quella che verrà chiamata la sesta armata la sesta armata che è radunata con 150.000 uomini ma non si tratta di truppe raccoglitice si tratta invece di truppe ben addestrate ben armate e pronte ad intervenire quindi da una parte la sesta armata che come vedremo verrà affidata al generale Manuri dall'altra parte il BEF cioè i britannici di cui i francesi fin dall'inizio non si fidano tantissimo Joffre non si fida particolarmente del generale French che peraltro spesso e volentieri si nega e non sono convinti che gli inglesi vogliano andare fino in fondo in questa manovra e che condividano fino in fondo come dire l'intuizione il sentimento strategico della battaglia che hanno invece i francesi però come vedremo invece gli inglesi e in particolar modo Murray avranno daranno ben bene manforte ai francesi in quella che poi diventerà verrà chiamata dallo stesso Gallieny il miracolo della Marna ma che come spero questo ragionamento che stiamo facendo dimostrerà non è stato affatto un miracolo è stato anzi una cosa pirandello la definirebbe naturalissima cioè è stato l'esito naturale di una battaglia condotta in quella maniera Geoffrey il 6 settembre ordina il contrattacco questa è la vera e propria prima battaglia della Marna la terza armata quella di Sarrail la quarta quella di Lango de Carie e la neonata non armata di Foch nome che ritornerà insieme a molti altri impegnati nella prima battaglia della Marna Foch diventerà il comandante in capo dei francesi insieme alla sesta di Manuri che proviene dalla zona trincerata di Parigi scatenano questa controffensiva la scatenano mentre ancora una parte delle truppe tedesche stava premendo cioè era ancora nella fase di avanzata apparve subito evidente che il centro strategico della battaglia all'inizio sarebbe stato il fiume Ork che si trova qua sul fianco destro germanico cioè che la sesta armata di Manuri sarebbe stata la protagonista di questa azione che serviva a disassare e a dividere lo schieramento tedesco verso l'Ork dunque convergono sia le forze alleate che le forze tedesche a questo punto Von Kluck che era arrivato al Grand e al Timorand che sono altri due fiumi che si trovano più in qua della Marna sposta i suoi uomini in direzione dell'Ork facendo questo però cioè tamponando l'attacco della sesta armata in direzione dell'Ork apre un varco nel proprio schieramento anzi più che nel proprio schieramento a dire la verità fra il suo schieramento e la seconda armata è in questo momento che siamo al 7 di settembre Manuri sta cercando disperatamente di sfondare sull'Ork e ha bisogno di uomini perché i tedeschi contrattaccano insomma come potete immaginare si tratta di un botta e risposta che va avanti per diversi giorni allora le offensive non erano ancora come dire o tutte bianche o tutte nere c'erano attacchi e contrattacchi continui Manuri ha bisogno di rinforzi e qui si colloca l'episodio più famoso della prima battaglia della Marna forse l'episodio più famoso per i francesi di tutta la guerra che qua vedete in questa vignetta di una pubblicazione per bambini cioè le taxi della Marna vengono requisiti un migliaio forse 1200 taxi Renault a Parigi e vengono utilizzati per trasportare in prima linea la 14esima brigata di fanteria circa 5000 uomini che vengono rapidamente caricati alle porte di Parigi e portati sulla linea dell'Orc dove combattono questo viene raccontato dai francesi come l'episodio che segna la svolta della battaglia della Marna ora possiamo anche come dire prenderlo per buono se parliamo di guerra da un punto di vista strettamente epistemologico ma se ne parliamo da un punto di vista polemologico cioè di come funziona la guerra 5000 uomini in una battaglia di milioni di uomini sono una goccia nel mare quindi io dico molto probabilmente perché la sicurezza non esiste mai ma diciamo certamente non hanno cambiato l'esito della battaglia ma hanno rappresentato agli occhi del popolo francese per quella psicologia che come abbiamo detto è un elemento fondamentale formidabile della guerra hanno rappresentato la volontà di rivincita la volontà di non arrendersi che diventerà poi quasi la parola d'ordine dei francesi penso al comunicato di Petain durante la battaglia di Verdun on les aura nasce di lì nasce della battaglia della Marna che non è ripeto un miracolo arrivano i 5000 della 14esima brigata e miracolosamente i francesi saltano fuori dalle loro buche e vincono la battaglia ma sono un simbolo fortissimo che ancora oggi i francesi sentono come quasi come una loro impresa nazionale quasi come lo scudo con su scritto le taxi della Marna per rappresentare appunto l'indomito popolo francese mentre in realtà i veri vincitori della battaglia della Marna sono questi qui che vedete cioè i cannoni a tiro rapido da 75 e Deport gli stessi i cui piani erano stati i protagonisti dell'affaire Refus alla metà degli anni 90 il cannone da 75 Deport è un'arma formidabile che a breve distanza colpisce con la sua cadenza di tiro straordinaria 20 colpi al minuto sono tantissimi con i suoi schrapnel le fanterie tedesche e le ferma i contrattacchi tedeschi vengono quasi sempre fermati dalle batterie di 75 Deport e in particolar modo lo vedremo dai reggimenti di artiglieria del colonnello Nivelle altro personaggio che poi assurgerà grande fama salvo poi riprecipitare nel non dico nell'anonimato ma nel biasimo dopo la battaglia dello Schmendedam quando verrà chiamato amichevolmente le beveur de sangue il bevitore di sangue il 75 Deport è un cannone in grado di arare letteralmente centinaia di metri quadri di campo di battaglia facendo il vuoto e è l'arma della vittoria nella Marne certamente lo è certo che è molto più poetico e anche come posso dire molto più gradevole pensare al miracolo della Marne a Giovanna d'Arco che guida i francesi alla riscossa sono quelle cose che in guerra hanno la loro importanza l'importante è che noi a più di cent'anni di distanza riconosciamo invece come sono andate le cose abbiamo detto che si è formato un varco fra la prima e la seconda armata qui insistono i francesi e gli inglesi e in particolar modo gli inglesi che sono meno stanchi meno provati dei francesi la sesta armata ormai è veramente al limite e che cercano di incunearsi dividendo lo schieramento tedesco il solito vecchio schema in cui si spezza in due trenconi l'esercito nemico e da lì si creano i presupposti della vittoria sul Gran Morin e il Pti Morin vale a dire proprio nel punto di congiunzione dello schieramento tedesco attaccano la quinta armata francese di Franche d'Espray e il BEF la seconda armata germanica viene messa in seria crisi la prima armata è già duramente impegnata sul fronte dell'Orc dalle truppe della sesta armata francese la seconda armata viene messa in crisi fra il 6 e il 9 settembre da questo contrattacco fra il Gran e Pti Morin in questo reticolo di fiumi che in realtà sono intorno alla Marne è ovvio che per una riduzione ad uno si parli solo della Marne ma insomma hanno una loro importanza tutti questi ostacoli naturali dicevo il BEF e Franche attaccano e questo mette in crisi la seconda armata nel frattempo la terza armata germanica cioè la punta più orientale del tridente d'attacco del piano Molkeschliffen tenta un ultimo attacco a Saint-Gond Saint-Gond non è un campo di battaglia normale perché in francese è ricordato come le marée di Saint-Gond la palude di Saint-Gond è un territorio molto difficile è un territorio in cui la terza armata attacca ma viene respinta e viene respinta soprattutto come dicevamo certo in questa immagine si vedono i francesi alla baionetta il che è molto garibaldino il che insomma è anche un po' folcloristico ma in realtà di nuovo sono i cannoni da 75 che fanno il vuoto fra le truppe tedesche che tentano questo disperato attacco il fallimento di questo di questo attacco sarà il prodromo della ritirata nel frattempo però bisogna che diciamo una cosa compare compare sul campo di battaglia la figura del tenente colonnello Hensch siccome molti gentili ascoltatori hanno lamentato parlando della battaglia di Tannenberg il mio eclissi su Hoffman adesso parlo di Hensch e ne parlerò per vostra sfortuna dettagliatamente il tenente colonnello Hensch è un tenente colonnello dello stato maggiore di Molche il quale Molche trovandosi lontano dal campo di battaglia e per problemi logistici sostanzialmente ignaro di quello che stava succedendo manda Hensch presso i vari comandi d'armata per vedere che cosa sta succedendo Hensch va uno gli dice che le cose stanno andando benissimo l'ottimista Von Kluck che non si era reso conto della precarietà della sua situazione e altri gli dicono invece che la situazione è grave sta di fatto che Hensch comunica al comando di Molche che c'è un rischio concreto di essere tagliati fuori cioè c'è un rischio concreto che l'attacco si trasformi in un disastro perché le linee di rifornimento delle tre armate in particolar modo della prima e della seconda armata potrebbero essere incise perpendicolarmente dalla sesta armata e divise tra loro dalla quinta armata francese e dal BEF quindi fra il 6 e il 10 settembre viene maturata la decisione di ordinare almeno prima di tutto ai soldati della prima armata una ritirata in direzione di Suasson cioè in direzione nord vale a dire verso il fiume Esn che poi diventerà come dire il punto di massima avanzata alleata nella controffensiva il 10 di settembre Mölke ha dato l'ordine del ripiegamento e anche le altre armate iniziano a ripiegare proprio in virtù delle istruzioni date da questo tenente colonnello ai vari comandanti d'armata tenete presente però che Hensch ha pieni poteri da questo punto di vista da parte di Mölke l'ala destra come si diceva quello che paventava Schlieffen in punto di morte ha ceduto e i tedeschi per evitare il disastro si devono ritirare la linea di ritirata supera Suasson e si ferma sul fiume Esn quindi di nuovo in qualche modo possiamo vedere un'offensiva in questo caso una controffensiva che parte ha una notevole spinta cinetica ma poi si arena dopo un bel tratto di strada si arena su un ostacolo naturale in questo caso il fiume Esn arrivati al fiume Esn i soldati tedeschi cominciano a trincerarsi a difesa questo che può sembrare una normale manovra difensiva è l'inizio della guerra di posizione cioè da questo momento in poi la prima guerra mondiale diventerà un altro tipo di guerra e questo inizio di trinceramento un po' alla volta trasformerà il fronte dall'Esn praticamente fino alla Svizzera fino alla frontiera Svizzera in una guerra d'assedio reciproca fra due campi fortificati giganteschi ma il punto di partenza di tutto questo è la battaglia dell'Esn è la linea d'arresto sull'Esn delle armate tedesche del piano Mölke-Schwiffen che si trasformano in reparti che si fortificano cambia radicalmente dunque lo spirito della guerra agli inglesi e ai francesi tra l'11 e il 18 settembre succede quello che era successo ai tedeschi poco prima la loro onda si esaurisce sulla linea dell'Esn e la Francia però è salva da questo momento in poi il problema come posso dire il problema sia tattico che strategico sia dei francesi sia degli inglesi ci sarà la corsa verso il mare sia dei tedeschi non sarà più quella di una grande azione manovrata di accerchiamento cioè come posso aggirare la massa dell'esercito nemico con la mia massa d'urto ma diventerà un problema tattico come posso io penetrare all'interno del sistema fortificato avversario ecco che tutto questo imporrà agli eserciti nuove scelte da un punto di vista tattico e quindi addestrativo nuove scelte da un punto di vista tecnologico cioè qual è l'arma che mi permette di superare velocemente il più possibile indenne lo spazio che c'è fra le due linee fortificate insomma in pratica la prima guerra mondiale inizia dopo la prima battaglia della Marna che se vogliamo trovare una morale finale è in fondo l'ultima battaglia dell'Ottocento e la prima battaglia del Novecento ci sono degli elementi caratteristici dell'impostazione ottocentesca della guerra di movimento la cavalleria esplorante gli attacchi alla baionetta e ci sono degli elementi della guerra moderna l'annientamento dei forti con i supercalibri il 75 Deport le mitragliatrici quindi insomma credo che la battaglia della Marna anche per questo sia interessante sia un al di là della sua assoluta semplicità da un punto di vista tecnico-militare sia invece una battaglia enormemente interessante su cui ci sarebbe da dire molto altro da un punto di vista del suo esempio la battaglia della Marna è l'arrivo di una storia militare che dura da quasi 200 anni la guerra delle fanterie ed è l'inizio di una guerra nuova la guerra appunto di posizione la guerra di trincea quello che io amo chiamare guerra di oscillazione perché in realtà è una guerra immobile ma che continua a oscillare all'interno di un corridoio largo qualche chilometro in quel corridoio largo qualche chilometro le perdite saranno mostruose la battaglia della Marna da una parte e dall'altra ha meno di 100.000 perdite complessive tra morti feriti e prigionieri altre battaglie prendo Verdano ad esempio hanno 700.000 morti per milioni di perdite complessive ecco anche in questo la battaglia della Marna è ancora una battaglia ottocentesca in cui ancora le grandi masse non vengono macellate dai tiri d'artiglieria non vengono macellate dagli assalti frontali ai reticolati non ci sono reticolati nella battaglia della Marna il grande assente è il reticolato che diventerà invece addirittura il simbolo della prima guerra mondiale allora una domanda che probabilmente viene naturale sulla battaglia della Marna proprio come ultima battaglia ottocentesca e prima battaglia della modernità diciamo così riguarda le divise e gli equipaggiamenti abbiamo parlato dei cannoni non abbiamo parlato dei soldati in realtà anche in questo la battaglia della Marna rappresenta un elemento borderline in cui convivono elementi del moderno camouflage ed elementi invece della ottocentesca necessità di essere riconosciuti dai propri nell'ottocento quando ancora non esistevano gli esplosivi balistici e i fucili venivano caricati a polvere pirica sul campo di battaglia molto presto scendeva una cappa di fumo questo rendeva necessario avere delle divise particolarmente sgargianti per essere riconosciuti dai propri in modo da non essere colpiti dal fuoco amico naturalmente venendo a mancare l'elemento del fumo e naturalmente aumentando l'efficienza delle armi da fuoco con la canna rigata la retrocarica gli esplosivi balistici nella prima guerra mondiale invece la necessità è l'opposto cioè non essere visti la mimetica il camuffamento camuffamento che negli eserciti arriva in qualche punto prima in qualche punto dopo i tedeschi per esempio che sono abbastanza all'avanguardia da questo punto di vista indossano delle divise già mimetiche il felgrau che è una divisa di un colore che si può confondere con quello dell'ambiente circostante e che non è certamente sgargiante anche se i tedeschi indossano ancora il piquelhaube cioè l'elmo di cuoio con il chiodo che era caratteristico del prussianesimo soltanto in un secondo tempo verrà sostituito dallo stalem cioè l'elmo in acciaio che poi diventerà addirittura il simbolo dei reduci tedeschi della prima guerra mondiale gli inglesi indossano la divisa cachi insieme non ancora all'elmo a padella ma a un berretto di foggia un po' carabinieresca tanto per capirci un berretto di lana però la loro divisa è una divisa certamente mimetica chi certamente non è mimetico sono i francesi che indossano ancora al tempo della prima battaglia della Marna la loro montura con il capotto blu i pantaloni il capirosso che li rende un bersaglio assolutamente facile da colpire soltanto dopo le terribili perdite del 1914 e del 1915 i francesi introdurranno l'elmetto adrian quello che passeranno anche agli italiani e soprattutto la divisa azzurro cielo il bleu ciel che è la divisa azzurro chiaro relativamente mimetica che indosserà la fanteria francese durante la prima guerra mondiale quindi la battaglia della Marna anche in questo certamente rappresenta un ponte di union fra il vecchio e il nuovo d'altronde poi chiudo gli stessi tedeschi contro i belgi nella battaglia degli elmetti d'argento caricano con i loro lanceri corazzati vale a dire con la loro pettorina d'acciaio lucido e le lance le mitragliatrici dei belgi naturalmente la cosa risulterà essere un massacro quindi ripeto siamo in una fase della guerra in cui il moderno e l'antico convivono anche nel medesimo esercito questo per rispondere a chi si ponesse una domanda diciamo sulle divise e l'equipaggiamento tutti quanti sono dotati di fucili a ripetizione naturalmente dalle belle insomma all'infield inglese insomma sono dotati di armi moderne tutti quanti diciamo che il punto debole è quello della divisa francese che è veramente una divisa di tipo ottocentesco un altro aspetto che andrebbe toccato è quello sempre legato alla logistica della ricognizione aerea gli aerei nel 1914 sono ancora molto se uno guarda un bleriot del 1914 capisce subito sono molto più simili a un pollaio che a un aereo l'osservazione aerea esisteva diciamo a breve gittata veniva per esempio fatta un'osservazione aerea per i tiri d'artiglieria la cosa funzionava in questo modo l'aviatore osservava l'effetto dei tiri e poi lanciava un contenitore di solito una bottiglia di alluminio con dentro delle indicazioni sperando che gli artiglieri la raccogliessero e soprattutto sperando che gli dessero retta è capitato per esempio sul fronte italiano nel 1915 che degli osservatori aerei lanciassero delle istruzioni alla nostra artiglieria e i comandanti delle batterie non si fidassero non ci credessero quindi dicessero no queste sono stupidaggini facciamo come diciamo noi quindi anche l'osservazione aerea era estremamente rara ed estremamente inefficiente rispetto a quello che poi avverrà durante la guerra se pensiamo a Verdun che è una battaglia in cui la superiorità aerea diventa elemento determinante della battaglia stessa ecco certamente i pochi ricognitori che volavano allora avevano un impatto veramente debole si preferiva per esempio salire sui campanili ecco era un'osservazione comunque molto a breve gittata un'osservazione che permettesse di come dire in qualche modo relazionare sull'intero movimento aggirante delle tre armate tedesche era fuori della portata diciamo degli strumenti tecnici dell'epoca e probabilmente era fuori della portata anche della mentalità dei comandanti dell'epoca perfino le comunicazioni erano molto problematiche cioè non esisteva un sistema radiotelegrafico efficiente si stava cominciando a metterlo sulle navi da guerra ecco però calcolate che la tragedia del Titanic è soltanto di due anni precedente e il Titanic veniva indicato come una straordinaria novità tecnologica perché aveva una sala Marconi che poteva mandare appunto i messaggi dell'SOS per quel che gli è servito per cui siamo veramente in una fase pionieristica già solo due anni prima gli italiani avevano fatto il primo bombardamento aereo lanciando in Turchia nella guerra Italo-Turchia in Libia delle bombe di mortaio ecco siamo veramente alla sperimentazione più completa per questo io dico che in fondo la battaglia della Marna la prima battaglia della Marna non è ancora la prima guerra mondiale da un punto di vista militare è una sorta di battaglia borderline di via di mezzo proprio per questo straordinariamente interessante e utile da discutere e da analizzare vi ringrazio grazie 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 grazie